Allora, siamo a Casalin Contrada, un piccolo comune in provincia di Chieti, quindi collina media interna della provincia di Chieti, terreno abbastanza argilloso, un impianto di arbechina, questo è un impianto di arbechina e altre varietà messe in diverse file, fatte con le piante dalla produzione del bivaio apice e piante. Erano piante l'anno scorso alte 30-40 cm, sono sviluppate molto bene, ma qui vi voglio far vedere come si possono avere ottimi risultati anche senza la presenza dell'impianto a goccio. Questo è un impianto in asciutto, è stato innaffiato con irrigazione di soccorso all'inizio dell'anno, poi durante l'estate veramente se l'è vista da sole, quindi le piante si erano bloccate e la crescita, la bella crescita invece è stata realizzata dalla pianta nel periodo di settembre dopo la pioggia. Hanno messo qui del favino per favorire la consumazione azotata naturale e nonostante che il terreno non sia di primissima qualità, ma un buon terreno per l'olivo, mantenendo la pianta senza erbaccio durante l'estate è possibile in aridocultura avere degli ottimi risultati. Quest'anno sarà il primo anno di raccolto, la pianta vedete anche il sistema di potatura è stata spuntata, qui abbiamo tanti rami che cominceranno a fare una bellissima produzione, per questo che l'anno prossimo che sarà il secondo anno, quindi l'inizio della produzione, dell'entrata in produzione della pianta. Quindi un risultato meno evidente delle piante che hanno un impianto a goccia, ma un risultato molto importante per un impianto in asciutto.